Bella a tutti ragazzi, eccomi qua nel nuovo video su GTA 5 Online Per mostrarvi un po' come funziona la compra-vendita delle casse sul nuovo aggiornamento Con l'ufficio, il magazzino e tanto altro Se vi ricordate bene, questo qua è il mio ufficio, vabbè Però c'è qualcosa di diverso, tipo tutte queste cose qua in giro per l'ufficio Che le avrete solo se completate il recupero delle casse tramite quel computer lì in fondo Vedete, c'è qua la cassa delle armi, il vino, quadri, tv E infine qua dove c'è la scrivania è pieno di soldi Però si riempirà di soldi solo se continuate a vendere le vostre cose che avrete nel magazzino Iniziamo qua, andando nel computer Fate l'accesso qua, aspettate un attimo Ok Fate accedi E per chi ancora non ha comprato il magazzino Gli uscirà fuori questa schermata Aspettate qua, tutti Gli uscirà fuori questa schermata con tutti i magazzini che ci sono su GTA Sopra nella mappa non c'è niente, è solo qui in città Ci sono tre tipi di magazzino Quelli piccoli che mi sembra che possono ottenere lì Avere 16 casse Poi c'è il medio su una trentina, una quarantina, vediamo subito 42 casse E infine quelli grandi tipo quello che ho io Che ne potete avere fino a 111 Io ho già 12 pacchi in magazzino Però volendo ne posso aumentare comprando delle casse Se giocate da soli in sessione pubblica ovviamente perché non si può fare in privata Vi consiglio di fare una cassa alla volta come sto facendo io ora Perché se prendete due o tre casse Contemporaneamente gli altri giocatori potranno vederle E ve le distruggono Oppure se non ve le distruggono non fate in tempo Perché c'è un tempo limitato per prenderle Ora io ne acquisterò una per farvi vedere un po' come funziona Faccio conferma E uscirà automaticamente da internet Ora dovete uscire fuori dall'ufficio E appena uscirete fuori vi chiamerà la segretaria Dicendo che il pacco è in quel posto lì Vi ha mandato i dati del GPS o altro A me in questo caso ho visto sulla minimappa Che c'è una piccola barca Quindi probabilmente da prenderlo in mare Ok la segretaria mi sta chiamando Non è a passeggiata Il carico si trova a bordo di imbarcazione a largo Perfetto Visto che ho già qua l'elicottero dell'associazione Qua dell'organizzazione Lo prendo Vado lì Senza prendere la dinghi Come c'è scritto in alto a sinistra E prendo direttamente il carico A me ogni volta che mi ha mandato fuori Nel mare C'erano sempre da distruggere due barche E poi c'era il carico da prendere Quindi vi consiglio vivamente di farlo con l'elicottero Perché tanto basta atterrare leggermente sopra l'acqua E vi prende automaticamente il pacco Eccomi qua a largo nel mare E come vedete ci sono due barche E mi ha detto pure di distruggere le barche Visto che sono quell'elicottero Attivo il lanciamistro da ricerca Questa qua sbagliato Ok distruggo la prima Neanche questa l'ha preso Perfetto Oggi fa brutti scherzi il buzzard E distruggo anche il secondo La barca a vela se riesce Ok Faccio fuori pure questi Almeno non mi danno fastidio Ovviamente Sempre se il buzzard è d'accordo Ok Ah c'è pure l'elicottero questa volta Però per mia fortuna Sono sempre col buzzard Quindi Non faccio grande fatica Eccetto ora Che ovviamente quando registro Fa capricci la mira assistita La mira automatica Dov'è? Ok preso Ora guardo Guardo sulla minimappa Dove è il pacco Eccolo qua davanti a me Che lampeggia E come potete vedere Già in basso a destra Si vede segnale globale Cos'è quel segnale globale? E' quando tutti i giocatori Avversari Qua nella sessione Potranno vedere il pacco Dov'è? Ora visto che sull'elicottero Avete visto Ho toccato leggermente l'acqua E ho recuperato automaticamente Il pacco Attenti Non atterrare completamente in acqua Con l'elicottero Altrimenti andrete in fondo E vi tocca nuotare Fino alla barca Che è qua Oppure Fate prima Chiamandola a Maryweather Chiedendo il passaggio nautico Dopo che avete preso il pacco Vi basterà andare in magazzino Quello che avete acquistato E Consegnarlo Eccomi qua nel magazzino Sono O mai qua Sono quasi arrivato Sono sopra il magazzino Se siete con un veicolo Vi dirà di portare la merce qua Altrimenti nella porta d'ingresso Che è lì dietro Se siete a piedi Ah Automaticamente Di solito scende dall'elicottero Questa volta non l'ha fatto Vabbè lo faccio io Per vedere un po' Com'è il magazzino Entrata classica Di ogni appartamento O altro Solito caricamento Ed eccomi qua nel magazzino Questo qua è il magazzino Quello più grande Da 111 Posti diciamo Per avere 111 casse Io ho riempito solo questa parete Diciamo Riempito vabbè E ci sono varie cose da prendere Tipo qua la droga Che c'è anche nella Nel colpo di Trevor Ci sono dei quadri Delle zanne lì Qua medicinali E tanto altro Questa qua è la postazione Per potenziare i veicoli Per consegnare la merce Ci sono tre tipi di veicoli Il primo è il furgone Che tra poco vi farò vedere Quello della Pegasus E si può potenziare la corazza E le gomme antiproiettile Poi c'è l'aereo Tipo il Titan Anche a volte Dipende quanta merce vendete Che potete potenziare Anche qui la corazza E il disturbatore di frequenze Che mi sembra Serve per far Per far localizzare Meno facilmente Il vostro aereo E infine La barca per consegne Potenzia la corazza E la velocità Io in questo caso Vi consiglio di potenziare la velocità Perché è molto lento Perché è la nuova barca Quella lì Grande Mezza arrugginita Ora vi faccio vedere Due nuovi mezzi Che hanno messo Qua su Warstock C'è il primo Se non mi sbaglio Sì Il Brickade Da un milione e cento Non c'è bisogno che lo comprate Ve lo daranno in automatico Per le consegne Se il gioco Vi farà consegnare I vostri pacchi Tramite un veicolo Vedete Questo qua vi consiglio Anche questo Di potenziare la corazza Perché altri giocatori Vorranno distruggerlo In modo tale Voi non consegnate niente E questa qua invece Dov'è Questo qua È sito delle barche Ecco qua È il rimorchiatore Da un milione e duecentocinquantamila È molto lento Quindi vi consiglio Ovviamente Di potenziare La velocità Quando avrete Riempito il magazzino Quando volete Andate qua sul computer Con la freccetta destra Lo avviate E c'è scritto Quante casse Volete vendere Io ora Nel magazzino Ne ho 13 Quindi mi dice Se ne voglio vendere 13 per 188.000 7 casse Per 94.500 Ho 3 casse Per 36.000 Più il vostro magazzino È pieno Più il valore aumenta Vabbè Io ho già fatto Un ordine Cioè Ho già riempito Una volta Il magazzino Completamente Con 111 casse E il valore È di 2.200.000 Poi ho fatto Altre due consegne Da 200.000 All'uno E Sono arrivato qua A 600.000 Vabbè Direi che Per questo video È tutto Se vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate E iscrivetevi Ciao Al prossimo video